Ben ritrovati cari amici a un nuovo appuntamento con la vetrina dell'auto, oggi ospiti di Car M nella splendida sede di Viale Luigi Borri 244 a Varese, una sede storica da tantissimi anni, punto di riferimento Seat e Volkswagen Service e da quasi un anno, ecco, tutta la qualità di Car M anche al vostro servizio per i marchi Evo e DR. Infatti io sono qui con Simone che saluto e ti devo chiedere come è andata, infatti in questo quasi anno, è tra un po' festeggiate. Assolutamente sì. Ciao Clara, un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo, è trascorso quasi un anno da quando Car M è diventata concessionaria DR Evo per Varese Provincia. Siamo molto soddisfatti della scelta che abbiamo fatto, confermata soprattutto dall'interesse e dalla curiosità dimostrata dalla tanta gente che è venuta a trovarci in sede e dalla nostra clientela verso proprio il marchio DR Evo. Per chi ancora non conoscesse il marchio DR Evo, ricordiamo che è un marchio italiano prodotto in Molise. La filosofia del gruppo è quella di produrre vetture full optional mantenendo un prezzo veramente competitivo. Lascio ora la parola ai miei colleghi Davide e Roberto che vi illustreranno nel dettaglio alcune vetture della gamma DR Evo. Buonasera da Roberto a tutti i telespettatori che in questo momento ci stanno seguendo. Questa sera vi parlerò di alcune vetture del marchio DR. Iniziamo con la DR3, vettura che rientra nel segmento dei crossover ed ha una dimensione di 4,17 metri di lunghezza. È disponibile con la nuova motorizzazione da 116 cavalli 1.5 di cilindrata. L'alimentazione di questa vettura è in benzina e benzina GPL. La vettura come da filosofia DR raccoglie tutto quello che è conosciuto in questo momento di serie sulla vettura. Ha la possibilità di essere personalizzata a richiesta con il pacchetto pack bicolor che permette di avere abbinati ai vari colori della carrozzeria, il tetto in contrasto e i vetri posteriori privacy. Anche come sicurezza su questa vettura troviamo tutto quello che DR in questo momento ha a sua disposizione. Ora parliamo di prezzo. Il prezzo chiave in mano della nuova versione DR con l'alimentazione a benzina ha un costo di 15.400 euro. Con solo i 1000 euro in più potete avere la versione benzina GPL. Vi invito a farci visita in caremme per toccare e visionare personalmente quello che questa vettura ci può offrire. Ricordo inoltre che la gamma DR gode di una garanzia di 5 anni e se avete una vettura da rottamare di almeno 10 anni di anzianità potrete avere uno sconto supplementare di 1.500 euro. In caremme potete acquistare la vostra DR3 usufruendo anche del nostro finanziamento Progetto Valore Plus. Parliamo ora di una vettura che rientra nel segmento dei SUV e parliamo di DR5.0. Questa vettura ha una dimensione di 4,36 metri di lunghezza e disponibile con una motorizzazione 1.500 di cilindrata. Con una potenza da 116 cavalli o turbo da 154 cavalli con cambio automatico a doppia frizione. L'alimentazione di entrambe queste versioni di potenza è in benzina e benzina GPL. Anche questa vettura segue la filosofia DDR. È una vettura full optional alla quale non manca proprio nulla. Per la versione da 154 cavalli come accessorio extra è disponibile il pack color. Composto da tetto nero lucido montanti in diversi colori sia lucidi che opachi. Anche per questa vettura tutte le sicurezze attive e passive che troviamo a disposizione sono quelle di tecnologia conosciuta in DR. Parliamo ora di prezzo. Il prezzo chiave in mano di questa vettura nella versione benzina ha un costo di 18.900 euro e con solo 1.000 euro in più potete accedere alla versione benzina GPL sempre con la potenza da 116 cavalli. Mentre la vettura con il motore da 154 cavalli ha un costo di 21.900 euro e con solo 1.000 euro in più potete accedere anche in questo caso alla versione benzina GPL. Ricordo che l'intera gamma DR gode della garanzia di 5 anni e se avete una vettura da rottamare con almeno 10 anni di anzianità avrete uno sconto ulteriore di 1.500 euro. Ricordo inoltre a tutti che in carem potete acquistare la vostra DR usufruendo del nostro innovativo finanziamento Progetto Valore Plus. Io per questa sera ho terminato, lascio la parola al collega Davide e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori da Davide. Oggi ho il piacere di presentarvi DR F35 un Touring SUV di 4,50 metri di lunghezza dal design inconfondibile. F35 ha una motorizzazione 1.500 turbo da 154 cavalli disponibile a benzina o doppia alimentazione benzina GPL. F35 è disponibile sia con cambio manuale e anche con cambio automatico doppia frizione. Anche su F35, come tutta la gamma di Arevo abbiamo una dotazione full optional di serie. Partiamo dai cerchi in lega da 19 pollici vetri posteriori oscurati tetto panoramico elettrico top view camera con sensori di parcheggio anteriori e posteriori interni totalmente in ecopelle sistema infotime touchscreen da 9 pollici che è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. sempre compreso nel prezzo F35 ha una garanzia di ben 5 anni o 100.000 chilometri. F35 con alimentazione benzina e cambio manuale ha un prezzo di listino di 23.900 euro chiave in mano e con soli 1.000 euro in più si può avere l'alimentazione benzina GPL. F35 con cambio automatico alimentazione a benzina ha un prezzo di 25.900 euro chiave in mano sempre 1.000 euro in più per la motorizzazione benzina GPL. Prima di salutare i nostri gentili telespettatori volevo appunto informarvi che per il mese corrente se avete una vettura usata con più di 10 anni di anzianità è previsto uno sconto rottamazione di 1.500 euro. È possibile acquistare F35 con finanziamenti personalizzati a tasso agevolato anche senza anticipo e anche con progetto Valore Plus. Vi aspettiamo quindi in sede per vedere e toccare con mano F35 contattateci per qualsiasi informazione o per prenotare un piacevole test drive. Passiamo ora a Evo 4 che è un family crossover di 4,35 metri di lunghezza. Evo 4 è disponibile con motorizzazione 1.6 benzina da 115 cavalli o doppia alimentazione benzina GPL. Come per tutte le vetture di Erevo anche su Evo 4 abbiamo una dotazione full optional di serie partendo dalla vernice metallizzata tetto apribile elettrico tetto in contrasto bicolore ai sensori anteriori e posteriore di parcheggio con la top view camera cerchi in lega da 17 pollici interno in pelle con sedile conducente riscaldabile cruise control e comandi multifunzione al volante climatizzatore automatico e il sistema Info Timing compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il prezzo di Evo 4 per la motorizzazione benzina è di 16.900 euro chiave in mano e 1.000 euro in più per la motorizzazione benzina GPL. Anche su Evo 4 per il mese corrente se siete in possesso di una vettura con più di 10 anni di anzianità è previsto uno sconto rottamazione di 1.500 euro. Vi ricordo inoltre che la gamma Evo si completa con il modello Evo 5 1.600 benzina o benzina GPL con un prezzo a partire da 14.900 euro chiave in mano e il modello Evo 6 1.500 turbo benzina o benzina GPL con un prezzo a partire da 19.900 euro chiave in mano. Anche su queste due vetture abbiamo appunto la campagna rottamazione nel mese corrente se siete in possesso di una vettura con un'anzianità superiore ai 10 anni. Vi aspettiamo quindi in sede per vedere e toccare con mano tutte le vetture di Ere ed Evo contattateci per qualsiasi informazione o per prenotare una piacevole prova su strada. Parliamo ora della nuova Evo 3 Electric la prima vettura elettrica commercializzata dal gruppo di Erevo. La nuova Evo 3 Electric si differenzia dalla prima serie per il nuovo frontale dal design ancora più accattivante e per il pack color che comprende i cerchi in lega da 17 pollici i vetri posteriori oscurati e le color line personalizzabili ora di serie sulla vettura. L'auto monta un motore elettrico jack utilizzato anche dalle più belasonate case automobilistiche tedesche. Le batterie sono di marca Samsung hanno 8 anni di garanzia e sono di proprietà dell'acquirente pertanto incluse nel prezzo della vettura. Il tempo di ricarica totale è di 8 ore in modalità lenta mentre si riduce a soli 40 minuti in modalità veloce. Per quanto riguarda invece le prestazioni di questa auto elettrica Evo 3 Electric sviluppa 85 kilowatt ossia 116 cavalli con una coppia massima di 270 newton metri una coppia massima che fino ad ora era raggiungibile solo da vetture benzina turbo o da vetture turbodiesel. La vettura inoltre raggiunge una velocità da 0 a 50 chilometri orari in soli 4 secondi e mezzo. L'autonomia delle batterie ci permette di percorrere fino a 300 chilometri. Anche Evo 3 Electric ovviamente come tutto il resto della gamma di Evo è veramente full optional pertanto vi aspetto a scoprirla in concessionaria. Ma vediamo adesso le promozioni sulla vettura. Grazie agli sconti statali e al nostro contributo la nuova Evo 3 Electric potrà essere vostra a soli 26.160 euro. Acquistandole inoltre avrete l'esenzione del bollo a vita per chi è residente in regione Lombardia e non pagherete più i parcheggi sulle strisce blu. Non solo, in molti comuni d'Italia è gratuito l'ingresso nelle zone ZTL ossia traffico limitato. Abbiamo visto fino adesso le vetture della gamma di Evo ma parliamo di promozioni e finanziamenti. Oltre allo sconto rottamazione di 1.500 euro previsto nel mese in corso per chi possiede una vettura da rottamare con almeno 10 anni di vita da caremme, grazie alla collaborazione con una finanziaria leader nel settore auto siamo in grado di offrire finanziamenti a tasso veramente agevolato. Pertanto vi invito a contattarci telefonicamente o venire a trovarci di persona presso la nostra sede. Avrete così modo di constatare l'effettivo risparmio che i nostri finanziamenti a tasso agevolato vi garantiranno. Da caremme inoltre potrai trovare la formula Progetto Valore Plus che consiste in un finanziamento di 47 rate più una maxirata finale. E fino a qua vi starete chiedendo ma che differenza c'è? È un normale finanziamento con minirate e maxirate. La differenza sta nel fatto che al 47esimo mese se non vuoi sostituire l'auto potrai saldare la maxirata o rifinanziarla in 36 mesi ma con rata già prestabilita ad inizio contratto pertanto senza trovarti spiacevoli sorprese all'ultimo momento. Ovviamente tutte le formule di finanziamento sono personalizzabili ed è possibile finanziare anche l'intero importo dell'auto con anticipo zero. Vi aspettiamo presso la nostra sede a Varese in Viale Luigi Borri 244 per toccare con mano la nostra gamma di R ed Evo. Ricordiamo inoltre che Caremme continua comunque a rappresentare i marchi Seat e Volkswagen sia come service che come vendita auto nuove. Ma non solo. Da Caremme potete trovare moltissime vetture aziendali dei marchi Seat, Volkswagen, Audi e Skoda con sconti addirittura fino al 40%. Ottimo, grazie. Quindi noi vi aspettiamo numerosi come sempre qui da Caremme. Ciao.